Luca Cascone, presidente della quarta commissione della regione Campania, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, ieri sera in diretta a Sud TV in uno speciale TG condotto da Rosaria Sica, ha annunciato importanti novità per Battipaglia. Tra queste l'avvio del quarto lotto della metropolitana dopo Bellizzi e sulla freccia rossa. In questo momento il progetto è previsto fino a Bellizzi, ma è chiaro che noi puntiamo al quarto lotto dove potrebbe essere Bellizzi e Battipaglia. E anche qui come siamo messi con i tempi? Fino a Bellizzi, ripeto quello che ho detto prima, noi immaginiamo di andare in inizio lavori nel 2019 per il prolungamento da Stagio Rechi a Bellizzi. Le fermate sono due nel territorio di Ponte Cagnano, l'aeroporto e una credo nell'ultima tratta della zona industriale di Salerno. Quindi saranno queste quattro fermate aggiuntive. Quindi arriveremo alla conclusione dopo il 2020? Sì, il 2022 dovrebbe essere la fine, l'ultima stazione. Dopo le prossime elezioni regionali? Noi lavoriamo per il programma... Magari inaugurerà chissà? Noi lavoriamo, sicuramente ne ha inaugurato di nuovo il Presidente De Luca perché lavoriamo per la conferma. Noi lavoriamo per la programmazione delle infrastrutture sul territorio. È chiaro che non tutto si riesce a completare nei cinque anni perché tra la programmazione, la progettazione, le gare di appalto, i ricorsi, purtroppo il tempo ci vuole. Su Battipaglia ci sta una richiesta del Comune di Battipaglia importante che è quella di far fare una fermata ad un'alta velocità che va verso Taranto. La Regione Campania l'ha sostenuta. Io ho incontrato casualmente il Sindaco di Battipaglia e in uno scambio veloce di battute ho detto è vero che voi avete fatto questa richiesta e siete andati un paio di volte a Roma, però probabilmente se avessimo pericolato attraverso la Regione Campania e inserito nell'insieme delle cose che facciamo per la mobilità nei rapporti che abbiamo con Ternità la forse sarebbe stato un pochino più concreto, più forte. Siamo rimasti col Sindaco e ci saremmo visti a breve, è un aspetto che ci sentiamo per fare questo passaggio in sia.